Ha avuto ufficialmente inizio a Trani il secondo mandato alla guida di Amio e S.P.A. dell'ingegner Gaetano Nacci, chiamato a sostituire il suo predecessore l'ingegner Ambrogio Giordano, scomparso tragicamente nell'incidente stradale avvenuto il 19 maggio scorso sulla strada statale 16 bis nel territorio di San Ferdinando di Puglia. Nacci è stato voluto dall'amministrazione comunale di Trani e nominato amministratore unico. La scelta, fanno sapere, da Palazzo di Città è basata sul bagaglio professionale dell'ingegnere e sulla scorta di quanto fatto nel primo mandato. Nacci a sua volta ha accettato l'incarico per spirito di servizio, per un sentimento di gratitudine e rispetto nei confronti della comunità tranese e dei dipendenti Amio e poi ancora per onorare il compianto Ambrogio Giordano. Questa vicenda nasce da una tragedia umana che rischiava di travolgere anche questioni diverse dall'aspetto strettamente umano. Il sindaco mi ha chiamato, ho risposto presente per spirito di servizio e rispetto nei confronti del sindaco e della città e io penso che in questo momento il lavoro sia il miglior modo per onorare la memoria del nostro amico Ambrogio Giordano.